Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Minecraft, siamo qua con il sedere di Nico. Nico mostra il tuo sedere. Nico mostra il tuo sedere, forza. Aspetta, vieni qua. C'è il mantello, non si vede nulla. Si vede, si vede. C'è il mantello, non si vede. Mamma mia come sei noioso. Oh ecco, il sedere, guardate, è una faccina. Perché ci racconti questa storia? Ragazzi siamo in una find the button. Chi trova il bottone vince, chi non lo trova perde. Va bene Nico? E qua ci sono tutti gli indizi. E che immagino avrai tu come sempre, in modo che io li avrò sempre dopo. Io non li uso, no, 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 no. C'è scritto, sono gli indizi scritti che io ti leggerò, quindi iniziamo subito il livello 1, la foresta. Ma è già enorme il primo livello. È un bioma, è un bioma, ogni singolo, cioè sono in tutto 10 i livelli di anni che puoi farci. Ma sono enormi, troppo. Ma te non è più difficile. Qui c'è qualesemente qualcosa, c'è qualesemente qualcosa. Dietro la cascata c'è una caverna. È per forza qua allora. È per forza qua. Io controllo sopra, ma siamo contro? È ovvio che siamo contro, mica siamo insieme, cosa credi? Non c'è nulla però. È tutto chiaro. Ah, vedi, me neanche sopra. Non c'è nulla, comunque. Non c'è nulla. E non c'è. Come non c'è nulla? Nulla. Non c'è nulla. Zero, zero, proprio. Non c'è. Niente, zero, totale. Zero, più. Ti alberi, hai controllato? Sto facendo Tarzan, ma al momento non mi sembra che ci sia nulla. Oh! Oh no, che coio! Eh, mi spiace. Un punto, per loco. Un punto, ma non l'ho mai provata. Ma per la prima volta che la gioco. È palesemente scaricato. Gio bottone! Guarda. Capito. Mico, ti giuro. Mico, io ti giuro, sono in me stessa vita. L'ho trovato completamente a caso. Era su una roccia. L'ho trovato completamente a caso. Sì, sì, sì. Mico, io ti giuro, su quello che vuoi, che non lo sapevo, non l'ho mai fatta, sta mappa. Vabbè, ragazzi, in fondo lo sapete, che il loco deve barare sempre. Ma io ti giuro, su quello che vuoi, che non lo sapevo. No, ma tranquillo, non è col... Cioè, in realtà è colpa tua, però... Mico, ma io ti giuro che non sapevo. Ah, questo è seriolo. Io non mi fido più di te ormai da anni, basta. Ma come da anni? Perché? Cosa ho fatto per un... Cioè, dai. Pure chiedi cosa ho fatto. Sì. Cosa hai fatto te? Io non so... Tu cosa mi fai? Io cosa ho fatto? Niente cosa ho fatto. Sono una brava persona. Io ti giuro, Enrico, l'ho trovato a caso. Adesso, guarda. Hai trovato? No, sapevo. No, pensavo lo stessi per premere tu. Ah, non è vero. Non lo prenderei mai. Eh, dove cavolo sto bottone, mannaggia? Questa propria, esame... No, l'hai trovato. Eh, l'hai trovato? L'ho sapevo. L'ho sapevo che avessi trovato. Non l'hai trovato? Dalto. Uh, mamma mia. Eh, invece sì! Scemo, due a uno. Siamo due a uno, siamo due a uno, sono ancora in vantaggio. Eh, invece sì, che carini questi meloni. Dov'è? Dov'è meloni? Sono bellissimi. Sono meloni aperti. In realtà queste sono delle teste, quindi questo è il cervello. Sei troppo svetto, lo colo. Sono delle teste aperte, quindi è il cervello che furiece, è una cosa... Macraba. Orro, questa, sì. Marcaba? 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 Marco? Marco non c'è oggi. Marca da bollo. Marca da... Ah! Marca da franco. Ma sto salendo sull'aria, per favore? In realtà no, mi sa. Why not? Qua non c'è nulla. Dicami. Come si stai sull'aria? Non c'è nulla. Ma che ne so, io ho fatto un po' di parkour strano. Eh, va che città già, io ti vedo cittare. Ma no, è vero! A parte che forse lo vedi anche se cito. Io non vedo nulla, non si può vedere, il mondo non vede nulla. Qua c'è un buco! Vuoi la ragnatela? No, c'è... Nooo... Cosa? No, è che non si può salire sopra il mondo. Qua c'è per forza qualcosa. Ah, no, l'avevo già visto anche io col buco. L'avevo già visto anche io col buco, non c'è assolutamente niente. Ma se lì c'è una nuvola, e lì c'è un'altra nuvola, vuol dire che qua è per forza qui! Eccolo! No, non c'è, scherzavo. Cosa vuol... Qual è il ragionamento delle nuvole? Non l'ho capito. C'è una caverna! Una caverna. E qua, e qua, e qua, e qua, per forza. E' per forza qua da qualche parte. Ma dove l'ha trovata all'ingresso la caverna? C'è una caverna dove c'è l'albero! Ah, l'ho trovata anche io. Ah, io! Dov'era? Dov'era? No, no, no! Due a due! Woohoo! Eh, non ci posso che... Ma com'è possibile? Ma c'è la morte! Tutorial che mi sta dicendo... Ah, quindi... Dai, aspetta un attimo, però! E poi... No, no, tu... Hai aperto un video su YouTube! Non l'ho aperto! E stai guardando... ...in tutorial! Vuoi che chi registri il mio video? Guardando un tutorial! Ma non sto... Ragazzi, questo video si chiamerà... Ho scoperto Nico Barare nella Find the Button! Questo sarà il video del video! Eh, vabbè, ho capito! Può spaccare qualcosa? Oh, sì! Dai, loco! Dammene uno! Dai! Non farlo a persona scorre... Oh! 3 a 3! 3 a 3! Complimenti, eh! Complimenti! Quelli di essere le ali! Eh, mi fanno noi invece! No! Ci si è cascato! Ci si è cascato a codo! Muka! Dimmi dov'è il... ...bottone! Ma tu per caso... ...pensi che... Ehm... Allora ti spiego, vieni qua un attimo, guarda, mi lasciano a... Oh, dimmi dov'è... ...dobbi che ho ucciso... ...duo fatelo! Vieni qui, guardi, guardi... ...di guardi... ...cappata nuca! Allora, guarda... Qui c'è un bottone! Qui c'è un bottone! Premilo! The fake! Non funziona! Cioè, c'è un tizio che si chiama here! C'è un signore che si chiama qui! Ciao qui! Il problema è che se tu parli con qui... E? Guarda che ti dice! Ah! Quindi non le devi ammazzare le mucche perché altrimenti... Ehm... So we need iron! Ci serve il ferro! E dove lo trovi il ferro? Intanto questa l'ammazziamo che... Vabbè, io l'ammazzo tutto e allora così nessuno fa... No, 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 una alla volta, una alla volta... Eh, una alla volta, esatto, prima lei... No, aspetta, aspetta, aspetta parlare una sola! Ok, poi c'è lei! No, mi hanno trollato! Dico, c'è uno cestito il fungo, mi hanno trollato! Mi è rimasta soltanto una! Nico, lasciala in vita per favore! L'ammazzo? Lui è quello che l'ammazzasse! È quello che ho minacciato! È già subito abbastanza in sua vita! Lasciolo in pace! Tieni questo, fate un poche! Fidanzatevi! Fidanzatevi! Fidanzati con la mucca, siete rossi entrambi! Meglio la mucca che con te, sinceramente, Tidi Mucca! Ah, io con te, ma cosa vuol dire? Appunto, che schifo! Non trovo il latte! Non trovo il latte! Non c'è latte! Ma scusa, ci sarà una miniera o qualcosa del genere? E tu avedi un buco per terra, per caso? Eh, non lo so... Ma c'è una cesta vuota! Non dirmi che tu hai già le cose! Io non ho nulla! Va bene! Tu hai già le cose per farlo! Se io non supero a questo livello, nessuno lo supererà, va bene? No, Nicolai! Lascia in vita la mucca! Vieni qua, guarda la mucca! Nicolai, lascia in vita! Guarda come corre, guarda come corre! Dagli il 5! Dagli il 5! Allora, facciamo... Cioè, usiamo l'ind... Mi hai tolto il libro dell'indizio, Nico! Non l'ho tolto io! È sparito! Mi dispiace! Eh, non abbiamo più il libro dell'indizio! Anche lei è scomparita! No, no, lascia lì quella povera mucca! Uno! È sbagliato! E mo' come facciamo, Nico? Tu avevi già il latte! Tu avevi già il... Infame! Infame! L'avevi già trovato! Dov'è che si mette il bottone? Lo premerò io! Lo premo io! Lo premo io! Pipi calze lunghe! Dov'è che ti metti? Pipi calze lunghe! Quel bottone! Ah, io non lo so! Tu lo sai? No, è superato la forza! No, infame! È bella sta mappa! È evoluto, secondo te? No, non penso che sia... Allora, aspetta che spacchiamo un blocco! Perfetto! Ma c'è scritto di non rompere la mappa! No, no, tranquillo! Mi dai una mano? Salta! Mi dai una mano? No, questo è un fiore! Grazie, gentilissimo! Perfetto! Siamo nella Belch Forest! Ma aspetta un attimo, che ora possiamo partire! Perfetto! Quanto ci siamo coperti? Il conto 4 pari? Io ho 4... Beh, io ho 4-3-3! Ah, 4-3! Abbasso la cresta! Ma che cresta! Abbasso la cresta! La cresta ce l'avevo quando avevo 11 anni! Come Sharawi! Ma adesso quanti ne hai? Adesso 12! Ah, ecco! Però qui non mi sembra che ci sia nulla di... Di nascosto, capito? Eh, anche prima! Non sembrava invece c'erano 7 caverne segrete nascoste! Eh, ma perché prima io in realtà avevo già trovato il secchiello e ho già monto la mucca! Sei un pagliaccio enorme! Eh, ma... È il peggio pagliaccio che abbiamo visto in vita mia! Eh, ma posso spiegare io? Allora, facciamo un patto! Io ti do una pizza se tu mi fai vincere questo... Tu mi devi ancora 176 euro, non ti conviene darmi... Una pizza in faccia! ...provormi altre cose! Ovviamente! Allora no! Mi dispiace, ha maggior ragione! Però, tanto qui non... Ah, quattro pari! Quattro pari! Era sottolabbero under the tree! Under the tree di Risabaton! Eh, guarda che... Guarda! Ma qua! Beh, non mi devo arrabbiare! Lo colochi, final level! Possiamo o pareggiare... Oppure... Io con te non perderò mai! Tra l'altro, è guarda che è apparso qualcosa in chat! Cosa è apparso? In questo livello devi trovare tre chest con dei bottoni denti! Per essere i bottoni sul diamante, sullo smeraldo e sul gold! Per finire la mappa, qui so tre i bottoni! Ok, facciamo che... Facciamo che ogni bottone che troviamo vale un punto! Ah, dici! Ok, ti posso ancora... Aspetta, non l'hai trovato, non l'hai trovato! Non l'hai trovato! Non hai trovato solo dove mettere i bottoni, ma non ti dirò dove si mettono! Ok, perfetto! Bottone del diamante, ci abbiamo! Un punto per l'occo! Siamo cinque pari! Ma a me non ne pare molto giusta come usa, nel senso io tra i yardato, nel senso... Non sapevamo che l'ultimo fosse una cosa che... E neanche lo sapevo, invece è solo sappiamo... Ma posso sapere almeno dove lei trova... Non te lo dirò mai, è un segreto di stato, perché io... C'è una chest? Eh? No! È una chest? Dove è che gli hai presi i bottoni? L'ha trovato uno in giro, nel mondo! Ne ha trovato uno! Sei a cinque! Mannaggia, managgia! Non ho trovato quello del gold, se vuoi interessarti! Quello dell'area, dove è quello dell'area? Non c'è da qualche parte per forza! Eh beh, grazie... Graziella! So dov'è, so dov'è! Qua sopra è, palese! Qua sopra! È palesemente qua sopra! Ah, è possibile che lì sopra... È palesemente qua sopra! È qui! Oh! Si scende! Dai che devo trovare da qualche parte per forza! Dai, dove sarà? No! Ah! C'era il diamante lì! Brutto schifoso! Collato! Oh! Come lo dici? Oh mio... Lì è dove si mettono i bottoni, pirla! Infame! Infame! Pirla! 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 Allora, una chest... Dove si può nascondere? Dai! Vabbè, io non posso perdere comunque... O è pareggio o ho vinto, quindi... Dai, oserei dire... Allora... Qui? Ma che non c'è un cavolo? Dove sei? Dimmi! Guardami! Ti vedi qua? Come sei arrivato lì sopra? Vedi cosa c'è qui sopra? No! Io non vedo! Eh... Come ci sei arrivato lì sopra? Ho fatto parkour! Ho vedere il video! Ma non era possibile! Non era possibile! Fallo, prova, fallo anche te! Stavo cadendo, mio Dio! Come si fa? Stavo cadendo! Da qua? Poi sul bambù... Ma sul bambù? E... E indovina cosa c'è qua? Il bottone dello smeraldo! Ho due bottoni! A me non interessa nulla! Ho due bottoni! E tu non hai vinto! Godo! Dove è lo porto? Abbiamo pareggiato qua! Ho vinto io! Abbiamo pareggiato perché bottone smeraldo! Bottone diamante! Clicca l'ultimo bottone! Ah! L'ho premuto prima io! L'ho premuto tutti! Non è che... In realtà non... Fa fare sta cosa? Ehm... Non è che... Cris button... Dai! Ragazzi! Questo video purtroppo è finito in pareggiamento! E' stata una bella sfida! Però... La prossima volta vincerò io! Però che tu vinsi più tutti e dovevi subito che sui piazza ci stati? Io saluto tutti! Oh po', tammo quadrato! Ah ma loco! Cosa? Ma si è aperto qui! E qua il final button! Questo è un pareggio! Ciao a tutti!